Io credo che la cosa più importante sia la centralità della persona. Tu hai disegnato una chiesa, una sinagoga e una moschea. Però sono tutte persone, quelli che frequentano la chiesa, la sinagoga e la moschea, sono tutte ragazzi, ragazzi, donne e uomini. Che sono tutti uguali, gli occhi, la bocca, le mani, le braccia. E sono comunque tutte persone che credono che ci sia qualche cosa sopra la nostra testa, che ci sia una divinità che comunque ha pensato quello che è successo o che ha creato il mondo. Sono tre religioni monoteistiche. Si può essere nemici perché uno entra in una sinagoga, uno entra in una chiesa, uno entra in una moschea. Dovrebbe essere no. L'Europa, il trattato fondamentale dell'Unione Europea, ha un articolo, l'articolo 17, che dice che l'Europa deve impegnarsi per favorire il dialogo fra le religioni. Lo dico perché sono io responsabile per il Parlamento Europeo di questo. La comprensione tra persone che sono di religioni diverse comincia a scuola. Se i genitori non si pongono un problema se un bambino cristiano va a scuola con un bambino ebreo, con un bambino musulmano e viceversa, questi bambini, poi ragazzi, si abituano a vivere e a rispettare persone che hanno altre religioni. Io mi ricordo che mio figlio, quando era un po' più piccolo di voi, mi chiese, un suo amico diceva, lui va in sinagoga, ma la sinagoga è come per gli ebrei, è come la chiesa per noi? Io gli ho detto, sì, è come la chiesa per noi. Ha avuto la risposta? Sono cresciuti senza nessun problema l'uno con l'altro. Molto dipende dalla scuola e dalla famiglia. Quindi nasce il dialogo, nasce il rispetto quando si è piccoli. Quindi la parte dell'educazione, della formazione è fondamentale. Perché se voi imparate oggi a rispettarvi uno con l'altro, non so se ci sono tra due ragazzi di religioni diverse, però se ci sono, state tutti in classe assieme, fate tutti la stessa cosa. Poi il fatto della religione, già è importante che un giovane creda che ci sia qualche cosa al di là del telefonino, del motorino, del divertimento, dell'andare a ballare.